Buongiorno, è la prima volta che ho l'onore di rappresentare l'Italia al Consiglio Europeo e oggi la questione principale che discuteremo sarà, tra le tante, la questione dell'immigrazione. Sapete che da questo punto di vista l'Italia è molto esigente perché non siamo ancora soddisfatti della discussione sul regolamento di Dublino, quello che fissa le regole per l'accoglienza dei rifugiati. Abbiamo lanciato un programma per fronteggiare insieme i fenomeni migratori dall'Africa, l'abbiamo lanciato a gennaio, ci aspettiamo risultati concreti. Oggi sarà fatto un passo in avanti, tuttavia che a mio avviso è importante, adesso perché insieme alla Francia, alla Germania, con il Niger firmeremo un primo accordo che vale un centinaio di milioni e che cerca di mettere più forza nella gestione dei flussi migratori dal Niger verso la Libia. Consideriamo che il Niger è proprio l'anticamera dei flussi migratori verso la Libia e quindi nel contesto di una politica che deve fare molti passi avanti, adesso insieme a François Hollande, Angela Merkel e con il presidente nigerino Issofu ne facciamo uno piccolo ma significativo.